E' un comparto che ancora soffre quello dell'edilizia, che ancora risente della dura crisi economica attraversata dal nostro paese. Ancora è stallo anche il comparto della distribuzione edile che nel territorio provinciale retino conta circa un centinaio di aziende ed è stato proprio questo il punto attorno al quale si è articolato l'incontro tra l'assessore regionale all'infrastruttura e Vincenzo Ceccarelli e le associazioni di categoria a cui appartengono i rivenditori di materiali edili. La situazione in Toscana e in maniera particolare ad Arezzo è piuttosto contratta per tutta una serie di vicende anche alatere di quello che è il comparto prettamente edile che comunque vanno ad intaccare quelle che sono le decisioni da parte di chi dovrebbe in qualche maniera parlo dei privati o delle imprese andare a fare delle scelte per costruire del nuovo o ristrutturare. Questo fa sì che la contrazione nella nostra provincia sia abbastanza importante. Questo è un settore che sta soffrendo oramai da tanti anni. Il settore dell'edilizia sappiamo essere uno dei settori che fa da volano a tante altre attività di carattere economico e anche occupazionale. Cosa stiamo facendo? Come regione intanto abbiamo già approvato in giunta la proroga del piano casa che cerca di dare incentivi per interventi di carattere edilizio. Stiamo confezionando con l'ABEI un mutuo da 100 milioni per intervenire sugli alloggi dell'edilizia esistenziale pubblica in Toscana. Quindi saranno circa 1.300-1.400 alloggi nei prossimi tre anni che noi andremo a finanziare. Abbiamo fatto un intervento sulla legge urbanistica per snellire, per rendere più agevoli e più veloci gli interventi di carattere di rigenerazione urbana. Quindi questo è un pacchetto che noi stiamo portando avanti in maniera coordinata. Ovviamente il futuro sarà un futuro fatto molto di più di rigenerazione urbana, fatto di recupero, fatto di restauro perché sappiamo che è ben difficile pensare che ci possano essere espansioni di carattere edilizio nel settore sia produttivo sia residenziale.